Stop ai controlli anticancro alla ASL dell'Aquila. A evidenziare la drammatica carenza di personale nell'azienda sanitaria di Avezzano sul Mona l'Aquila è la CGL Funzione Pubblica che denuncia inaccettabili condizioni per i lavoratori del sistema sanitario provinciale che hanno ricadute gravi anche sui servizi di prevenzione rivolti ai cittadini, come quello importantissimo dello screening antitumorale. Secondo il sindacato da diversi mesi è stato interrotto lo screening gratuito mammografico per i tumori al seno proprio a causa della carenza di personale in servizio nella ASL. Quegli screening fondamentali per individuare precocemente i tumori e i loro precursori, la cosiddetta prevenzione secondaria. Ma il quadro del servizio sanitario provinciale è per i sindacalisti ancora più sconcertante ad esempio per quanto riguarda le lunghe liste d'attesa. In effetti sono già quasi due mesi che il servizio è praticamente sospeso proprio a causa della carenza di personale che riguarda chiaramente tutti i servizi in particolare questo screening finanziato dalla regione. Ad oggi purtroppo proprio a causa della carenza di personale che non riesce nemmeno più a rifertare le diagnostiche fatte in questo periodo il servizio è praticamente sospeso. Quel personale è costretto soltanto a coprire turni di servizio ma con una grave carenza che chiaramente impone dei turni massacranti è un'attività non congrua. Però il personale è talmente esiguo che è lo stesso personale che deve far fronte sia chiaramente a tutte le attività programmate, vedi le prestazioni da CUP, oltre che alle prestazioni in emergenza urgenza, prani nel pronto soccorso, oltre che alle prestazioni del personale degli utenti ricoverati in ospedale. Per cui c'è questi lavoratori che sono sobbarcati i carichi di lavoro massacranti. Nel territorio provinciale risultano carenti oltre 700 unità lavorative a tempo indeterminato nei vari profili professionali, a cui si aggiungerebbero tra il 2019 e il 2020 circa 300 lavoratori con possibilità di pensionamento con quota 100, carenza solo parzialmente compensata dal ricorso al lavoro precario.